Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video. La parola d'ordine per i trapianti di quest'anno è scalare. Che siate da soli, in coppia, famiglia, famiglie allargate, mogli, fidanzate, amanti, eccetera, non mettete giù tutto subito, abbiate pazienza. Vediamo perché. Quattro buoni motivi. Uno, per non mangiarvi zucchine e pomodori tutti i santi giorni e ne avrete fin quassù. Come ricordo su un video dell'anno scorso. Eravamo rimasti che mi hai chiesto consiglio, quante zucchine per una famiglia, io ti ho detto quattro, no quaranta. Due, l'alternanza delle temperature quest'anno è veramente fetida. Sfiorano ancora a ridosso di aprile, maggio, ancora gli 8-10 gradi la minima. Quindi per evitare brutti scherzi aspettate a lasciare qualcosa di libero ancora. Tre, se una varietà si ammala proprio per sbalzi termici e idrici, come spesso accade, avete ancora qualche spazio libero. Quattro, se desiderate proprio mettere giù tutto insieme per vari motivi, scegliete varietà precoci e tardive, così che qualcuna spunterà prima o qualcuna dopo e mangiate verdura più a lungo. Questo vale anche per l'orto sinergico, quest'anno l'abbiamo provato, rimetto il link qua sopra. Quindi un bancale l'ho lasciato libero, ancora, e uno invece è in piena attività, come potete vedere. Se questo video ti è stato utile metti un like e commenta la tua esperienza qua sotto. Ciao!